In questo numero di Agri-Food Magazine Spreco alimentare, il 50% del cibo finisce nella spazzatura PNRR, 600 richieste per il bando agrivoltaico Mercato del vino fiacco nei primi 6 mesi dell'anno Export made in Italy verso un nuovo record Lo spreco alimentare in Italia continua a crescere Ogni settimana finiscono nel bidone della spazzatura Ben 683,3 grammi di cibo pro capite Tra i cibi più sprecati troviamo la frutta fresca, le verdure, il pane fresco Le insalate, cipolle, aglio e tuberi Vale a dire i prodotti principe della dieta mediterranea Tra le cause che hanno determinato l'aumento dello spreco alimentare nel nostro paese L'aumento dei prezzi che spinge i consumatori ad acquistare alimenti di inferiore qualità Che deperiscono subito Sono questi alcuni dei dati più significativi Che emergono dal rapporto internazionale Waste Watcher 2024 Lo spreco alimentare nei paesi del G7 dall'analisi all'azione Curata dall'osservatorio Waste Watcher International Campagna Spreco Zero Dall'Università di Bologna insieme ad Ipsos A livello nazionale il sud e il centro sono le aree dove lo spreco è maggiore Con un più 9% rispetto alla media nazionale Mentre il nord è relativamente più virtuoso con un meno 11% rispetto alla media nazionale Dal rapporto Waste Watcher 2024 ne esce un'Italia che spreca di più Più 45% su base annua È molto ma ci sono delle ragioni che spiegano questo spreco Innanzitutto i prodotti alimentari sono cari È vero che l'inflazione è diminuita Ma le famiglie soprattutto quelle a rendito più basso fanno ancora molta fatica Acquistano prodotti di qualità inferiore che si deteriorano prima Questa è una delle ragioni, teniamone conto perché è importante anche nel percorso che abbiamo attivato Di valorizzare il cibo con la campagna e promuovere l'educazione alimentare nelle scuole In vista del prossimo G7 Agricoltura di Siracusa lo studio ha sviluppato anche un focus sui paesi membri Soprattutto nell'ottica di comparare le buone pratiche e condividere esperienze reciproche per la prevenzione dello spreco alimentare Il rapporto Westwatcher quest'anno dedica attenzione ai sette paesi più importanti e più sviluppati del mondo Abbiamo capito che ci sono delle buone pratiche che potremmo copiare anche in Italia Una di queste è in Francia dove c'è una legge che obbliga il recupero dalla grande distribuzione E' importante perché ci sono molti poveri alimentari Mentre in Gran Bretagna è attivo un programma di informazione e di educazione alimentare che coinvolge tutti i cittadini Ne avremo veramente un gran bisogno anche nel nostro paese Alla chiusura del bando PNRR per incentivare lo sviluppo dell'agrivoltaico innovativo Sono giunte dagli operatori 643 richieste di partecipazione alle procedure di selezione delle iniziative La maggior parte è arrivata dal mezzogiorno per progetti con potenza complessiva di oltre 1,7 gigawatt Rispetto alle risorse PNRR dedicate alla misura Le richieste finora pervenute ammontano a circa 920 milioni di euro I numeri emergono dal riepilogo del gestore dei servizi energetici Che per conto del Ministero dell'Ambiente gestisce le misure Rivolte a sostenere la costruzione di sistemi ibridi agricoltura-produzione energetica Che non compromettono l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura Contribuendo alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende Per il Ministro Gilberto Picchetto Frattin si tratta di un risultato molto incoraggiante E che certifica la matura attenzione del mondo agricolo Verso misure che facciano coesistere produzione di qualità e nuove soluzioni energetiche rinnovabili Mercato del vino fiacco nei primi sei mesi dell'anno Secondo un'analisi realizzata da Nomisma in collaborazione con NIQ, Nielsen IQ Le vendite nel canale retail italiano fanno registrare un calo a volume di quasi il 3% Rispetto allo stesso periodo 2023 Nel complesso si evince una riduzione nelle quantità vendute Comune a tutti i format distributivi ma non alle diverse categorie Nello specifico per i vini fermi e frizzanti Il calo nei volumi risulta maggiore nell'e-commerce Mentre è meno accentuato nel segmento discount Al contrario per gli spumanti la variazione è di segno positivo in tutti i comparti Salvo che nel segmento cash and carry Sui mercati esteri invece si scorge qualche segnale di ripresa Se è vero che al giro di boa del primo semestre 2024 Le importazioni cumulate di vino nei principali 12 mercati globali Rappresentativi di oltre il 60% degli acquisti mondiali di vino in valore Si mantengono ancora in territorio negativo Va segnalato un miglioramento rispetto al cumulato del primo trimestre Peraltro le importazioni di vino dall'Italia Registrano performance migliori rispetto al trend generale In particolare rispetto allo stesso semestre del 2023 Gli acquisti di vini italiani a valore Risultano positivi negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e in Brasile Mentre soffrono in Germania e nei paesi asiatici L'export alimentare nel mese di luglio è cresciuto del doppio rispetto al dato generale Registrando un più 15,7% Portando il cibo made in Italy verso un nuovo record Dopo i 64 miliardi in valore raggiunti lo scorso anno È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sui dati Istat Relativi al commercio estero del settimo mese del 2024 Nel confronto con lo stesso periodo del 2023 Un vero e proprio boom si registra sul mercato americano Dove l'anno gastronomia made in Italy registra un incremento del 30% Ma la crescita a doppia cifra contraddistingue anche Francia, Gran Bretagna, Cina e Russia Ferma ad un più 9% invece la Germania Se si guarda poi al dato complessivo dei primi sette mesi Le esportazioni agroalimentari totali hanno raggiunto il valore di 40 miliardi di euro E se il trend di crescita dovesse essere mantenuto Si potrebbero arrivare quest'anno a sfiorare i 70 miliardi di euro Il prodotto più esportato è il vino davanti all'ortofrutta trasformata I formaggi, la pasta, gli altri derivati dai cereali Frutta e verdura fresche, salumi e olio d'oliva Un successo sul quale continua ad incidere l'Italian Sounding Ovvero il falso made in Italy agroalimentare Che nel mondo vale oggi 120 miliardi di euro Sottraendo risorse e opportunità di lavoro all'Italia Da qui la necessità precisa col diretti Di un chiaro stop al fenomeno della contraffazione internazionale A partire dagli accordi commerciali stipulati dall'Unione Europea Dove serve l'applicazione del principio di reciprocità Dove serve l'applicazione internazionale